Beh ma Luca senti ma oggi cosa mettiamo? Che è il primo dicembre del 2012 e mancano solo 20 giorni alla fine del mondo? È già Natale però Beh però è già Natale Eh quindi festeggiamo, che devi fare? Ma sì dai ce ne freghiamo della fine del mondo? Ma sì ma figura, dopo aver mangiato dopo un vuoto la Pierina che si mette fra me della fine del mondo, potrebbe anche fare domani per me E allora dai divertiamoci con della musica Beccate questa Io però la cerco io la musica Che musica vuoi mettere? Ma la cerco Dove la cerchi? La cerco su Youtube Eh ma scusa c'è una memoria da dare l'elefante, 40 anni di musica tutti i giorni, quasi tutti i giorni, tira fuori qualcosa di original Ma Ma Ma